Grazie a tutti. Gli argomenti del giorno, ora gratis, esperimento riuscito, parliamo del parcheggio di Santa Chiara a Sulmona, è stata una chiusura col botto, sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio. Primo giorno il resoconto era ancora agrodolce, forse perché quell'ora di sosta gratuita doveva entrare nelle abitudini dei sulmonesi, ma la misura scelta da commercianti e amministratori per rivitalizzare il parcheggio coperto di Santa Chiara a Sulmona si è rivelata vincente. Da Natale a Capodanno l'incremento dei parcheggi si è visto ad occhi nudi, soprattutto in mercoledì e sabato, quando nella centralissima piazza Garibaldi va a scena lo storico e tradizionale mercato, almeno due sold out a settimana. Il consuntivo arriva dal gestore del parcheggio, ma anche dai commercianti che parlano di esperimento riuscito. È stata pubblicizzata a dovere, comunque sta funzionando, un incremento l'abbiamo visto, diciamo. Di movimento e anche nel parcheggio? Sì, di movimento e di parcheggio. L'associazione aveva proposto inizialmente di liberalizzare i parcheggi in piazza Garibaldi per il periodo natalizio, una richiesta che non è stata accolta, ma si è scelto di lasciare un'ora di sosta gratuita nel parcheggio di Santa Chiara dal 21 dicembre al 6 gennaio. Niente ticket, quindi, per chi ha fatto acquisti, almeno per un'ora. Un provvedimento che sarà adottato grazie alla sinergia tra la struttura comunale, la consigliera comunale Roberta Salvati, l'assessore a commercio Stefano Mariani. È un piccolo segnale che ha sortito subito gli effetti, ma il 2019 dovrà essere l'anno dell'inversione di tendenza per il commercio cittadino. Dalla massiccia protesta dei 230 commercianti del marzo scorso, sono ancora molti temi da affrontare. Primo fra tutti la viabilità, come pure la sistemazione degli edifici pubblici da destinarsi al rientro dei servizi e delle strutture di formazione già presenti nel centro storico, l'accelerazione di tematiche legate al progetto Casa Italia, la rivisitazione della mobilità su gomma nel centro storico, la qualificazione turistica della città e del comprensorio attraverso eventi di rilievo e strutture pubbliche finalmente adeguate. Il 2018 è stato l'anno della protesta e degli effetti immediati. Il 2019 sarà l'anno della resa dei conti. Adesso facciamo il bilancio della Caritas. 120 famiglie assistite nel 2018. Aperta una sede anche a Prato-la-Pelinia. Il servizio. Una sede della Caritas anche a Prato-la-Pelinia. È stato il vescovo di Sumonavalva, Monsignor Michele Fusco, ad inaugurare ieri il centro parrocchiale della Caritas per la parrocchia della Madonna della Libera. Un segno concreto per promuovere la carità anche nella cittadina Pelinia. Una finestra che si apre nella comunità pratolana per venire incontro a chi vive nel disagio e nella difficoltà. Ad inaugurare la struttura, assieme al vescovo, c'erano anche il sindaco Antonella di Nino e il parroco padre Renato Frappi. Il 2018 è stato l'anno di Casanzaccheo a Sulmona, l'opera segno del Giubileo della Misericordia, che è una risposta concreta per chi ha bisogno. Ma è cresciuto anche il numero delle famiglie che hanno bussato alla porta della Caritas diocesana. Il report è arrivato nell'ultimo incontro tenuto da vescovo diocesano con i sindaci del centro Abruzzo. 120 le famiglie assistite, soprattutto residenti tra Sulmona e Pratola, persone sia italiane che straniere, di età compresa tra i 45 e i 50 anni, senza lavoro. Tra gli stranieri sono aumentati soprattutto i venezuelani, tanto che a Pratola Peligni è presente una nutrita comunità. Le richieste di intervento riguardano soprattutto il pagamento di bollette, medicine, biglietti per busso, treno. Ecco i dati relativi alle famiglie assistite, dalle Caritas parrocchiali o interparrocchiali. 43 a Capestrano, 20 a Pettorano sul Gizio, 37 in Valle su Bequana, 86 per la parrocchia di San Francesco di Paola Sulmona, 86 Cristo Re Sulmona, 54 San Giovanni da Capestrano Torrone, 70 Maria Ossiliatrice Sulmona, 80 per il centro storico di Sulmona, 80 per Popoli. Presto verrà aperta anche una sede Caritas a Canzano Campo di Giove. Nella mensa di Sulmona sono stati serviti 4.000 pasti e cominciato anche servizio serale, 15 volontari, 12-13 gli ospiti quotidiani. Più attenzione alla cultura d'impresa per cogliere le opportunità del centro Abruzzo e quanto afferma la Confesercenti del centro Abruzzo, secondo l'organizzazione dei commercianti è necessario un orientamento al nuovo con un atteggiamento ibrido in bilanciamento con la tradizione aziendale locale. Bisogna avere il coraggio nel 2019, non ci si può esimere dalla ricerca di idee creative e approcci audaci, secondo un rischio sostenibile, sostenendo idee innovative per salvare il territorio del centro Abruzzo da un infausto declino. Per la Confesercenti occorrono investimenti e un'attenta gestione degli enti locali. Per la Confesercenti inoltre è importante che nel 2019 siano colte le grandi opportunità del Paese e considerandone però con attenzione nel cambio di passo necessario le peculiarità di cultura organizzativa e imprenditoriale. Adesso ci occupiamo di rifiuti, anno nuovo e nuovi rincari. Sentiamo il vademecum con le novità del porta a porta nella città di Sulmona, il servizio è di Andrea D'Aurelio. Anno nuovo, nuovi ritiri per i porta a porta. Arriva il vademecum del Coggesa con le principali novità che saranno introdotte, soprattutto sulla città di Sulmona, accogliendo le richieste di cittadini e uffici comunali. Così la raccolta dell'organico passerà da lunedì e giovedì al mercoledì e al sabato e il terzo ritiro sarà riproposto nel periodo estivo, dal 15 giugno al 14 settembre 2019, il lunedì mattina dalle 6 alle 13 e 36. In questo caso sono state accolte le segnalazioni riguardanti la necessità di conferire scarti di cucina e mense dopo la preparazione di cibi a base di pesce. Per il vetro, invece, la raccolta passerà dal sabato mattina al lunedì pomeriggio, per ovviare all'esigenza di non produrre rumore il sabato mattina. Per i condomini di Sulmona, inoltre, sarà previsto un ritiro straordinario di carta per mercoledì 2 gennaio, in turno pomeridiano, raccogliendo le richieste e le segnalazioni dei condomini, tenendo conto che il prossimo ritiro, previsto dal nuovo calendario, era fissato all'8 gennaio. Altre modifiche sono state introdotte negli 11 comuni che fanno parte dell'unità locale di Capestrano, così come per Anversa delle Abruzzi e Cocullo, scoppito e torno in parte. Sindaci uniti contro il rincaro dei pedaggi autostradali al casello dell'Aquila va in scena la protesta di fine anno. Il servizio. Amministratori, sindacati e associazioni di categoria unite nella lotta contro il rincaro dei pedaggi autostradali. È stata una fine dell'anno all'insegna della protesta davanti al casello autostradale dell'Aquila, dove questa mattina è andata in scena l'ennesima manifestazione contro i caropedaggi. Davanti alle rassicurazioni e le prove di concertazione fra Ministero e Strada, reparchi, sindaci non hanno gettato la spugna. Il concessionario nei giorni scorsi si è rappellato al ministro Toninelli perché eviti che Anas faccia ricadere sugli utenti nella 24-25 il costo di ulteriori 73 milioni di euro relativi agli interessi sulle due rate e le canone di concessione, che devono essere sospese per consentire la sterilizzazione delle tariffe ed evitare l'aumento del pedaggio. Area di ottimismo tirava a Roma, visto che uno spiraglio si è aperto per rivedere le tariffe e scongiurare l'aumento dei pedaggi. Voglio ringraziare tutti gli amministratori, i sindaci parlamentari, le associazioni di categorie e sindacati che a freddo pungente sono stati presenti questa mattina per far sentire la propria voce. Mi auguro che entro la mezzanotte ci giungano dal Ministero Notizie Positive in merito alla sospensione degli aumenti così da poter festeggiare degnamente questo nuovo anno. È intervenuto l'assessore comunale Trasporti Antonio Angelone. Tra i manifestanti di questa mattina c'erano anche i comuni di Sulmona, Prezza e Anversa degli Abruzzi uniti nella protesta. E' tutto pronto a Pescara nell'area di Risulta che stasera ospiterà il concerto di J-Ax e in Piazza della Rinascita che domani 1 gennaio dalle 18 accoglierà uno spettacolo e verso le 19 il concerto di Daniele Silvestri. J-Ax inizierà il concerto alle 23 circa per interromperlo 15 minuti prima di mezzanotte e riprenderlo subito dopo seguito da un DJ set. Prima di lui si esibiranno Dario Barbarossa, Patrizio Santo, Grido e il rapper Space One. Il 1 gennaio si comincerà alle 18 con lo spettacolo di Induccio. Poi il cantante Antò prima di Silvestri. L'area di Risulta sarà divisa in quattro settori con quattro ingressi, ognuno presidiato da 20 persone, metal detector e controlli agli accessi su Piazza della Repubblica, dal terminal degli autobus urbani, da dietro il G-Hotel e dalla rotonda di via Quarto dei Mille. Vietati vetro, lattine e commercio ambulante. Per il 1 gennaio circoscrizione di Piazza della Rinascita con ingressi su Corso Umberto e divieto di sosta dalle 8 sulle vie limitrofe e divieto di transito dalle ore 15. Lasciamo dunque il grande appuntamento che ci sarà per il Capodanno a Pescara. Torniamo a Sulmona, il miracolo dell'umanità a Spazio Pingue. Pienone e applausi per il concerto delle religioni unite. Il servizio è di Andrea D'Aureo. Il servizio è di D'Aureo, il servizio è di D'Aureo, il servizio è di D'Aureo. Un grosso applauso a voi. Promuovere una convivenza pacifica e giusta fondata su rispetto reciproco e su una migliore ripartizione delle risorse della terra, mediante un impegno di educazione alla pace e al dialogo, la diffusione di ideali di fraternità e di riconciliazione, la promozione del disarmo e della collaborazione fra i popoli. È stato questo il filo conduttore del concerto tenuto ieri sera a Spazio Pingue, un inno all'ecumenismo e all'abbattimento delle barriere tra popoli. Un messaggio forte e chiaro che richiama la pace e la fratellanza grazie alla musica cattolica, ebraica e ortodossa che si sono strette la mano. Per una sera tutti sono tornati più umani guardando la diversità di culture come un elemento di ricchezza e non di divisione. Un'ora e mezza di concerto condotto da Chiara Buccini sotto la supervisione dell'organizzatrice Sondria D'Amato e di Luigi De Salvia, segretario generale della sezione italiana di Religion for Peace e di Maurizio Di Veroli del progetto Davka. Qui, come abbiamo sentito direttamente, sia nei contenuti, riuscire a vedere i contenuti, i valori positivi, gli orizzonti positivi che ci sono, non possiamo negarli. E questo per non farci travolgere dalla negatività che rischia di farci diventare complici del male. Un passaggio di forte ispirazione alla pace, di forte fratellanza, ma anche superamento delle differenze culturali ritrovandosi nella musica come opportunità di incontro e di ritrovo. Il repertorio è spaziato su vari brani che hanno coinvolto anche la corale Perilnia di Pratola, il coro di Santa Cecilia di Fausto Settevendemmi e l'Ensemble Sound System con gli ospiti della comunità terapeutica Il Castello di Anversa degli Abruzzi. Gran finale con Astro del Celle nel bicentenario della sua composizione cantato dall'inconfondibile Caterina Pacella. Il bilancio della serata per me è assolutamente positivo. Una situazione particolarissima, carica di emozioni, di intense sensazioni, emozioni trasmesse dalla musica delle tre culture, ebraica, ortodossa e cattolica, che comunque pur nella loro peculiarità e nella loro caratteristica è riuscita a trasmettere emozioni profondissime. Così esordito Sondria è amato visibilmente emozionata, è stata la vera regina della manifestazione che ha unito popoli e culture diverse portando in scena il miracolo dell'umanità. Marco Risi porta l'Aquila in TV e lo farà nel mese di aprile 2019. Ancora non c'è una data precisa per la messa in onda della fiction nei palinzesti Rai, ma si conosce il mese dello stesso in cui accadde la tragedia. L'Aquila, grandi speranze, sarà trasmessa infatti ad aprile nel decennale del terremoto ambientata all'Aquila. Nel settembre 2010 la serie di Marco Risi racconta la storia di un gruppo di adolescenti che vivono il post-terremoto in maniera nettamente differente dagli adulti. Mentre i genitori cercano faticosamente di rifarsi una vita normale, i ragazzi trasformano il centro città ridotto in macerie nel loro quartier generale, lontano dal mondo dei grandi. Nella primavera dunque del prossimo anno ripercorreremo gli attimi drammatici e fatali del terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009. Nella fiction sarà affrontata la quotidianità del post-sisma vista attraverso gli occhi di alcuni adolescenti a confronto con quelli invece degli adulti. La tragedia è ancora negli occhi e nei ricordi di molti, ma come in questi casi accade, la vita va avanti e ci si deve sforzare di trovare la forza per ricominciare. Dunque tutto questo sarà in visione nel mese di aprile, protagonista l'Aquila nel ricordo del tragico terremoto del 2009. Dunque si tratta appunto della fiction di Marco Risi che sarà trasmessa dai canali Rai. Il 2018, come piace a voi, ecco le notizie che hanno segnato l'anno che sta per concludersi il resoconto nel servizio di Andrea D'Aurelio. Dal viaggio inchiesta di Onda DG che si è medesimata in una partoriente a profilo dell'usura che cambia, passando per la consegna delle chiavi del nuovo ospedale, le dimissioni rassegnate dal sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, poi revocate. Queste alcune delle notizie che hanno segnato il 2018. Un anno particolare con il numero ricorrente, il 18, un canale che ha garantito assiduo e costante informazione anche nelle ore più impensabili. Un'emittente televisiva mai venuta a meno e sui doveri di informazione, sempre a servizio del territorio, con la presenza sul campo. Un anno di lavoro che domani riproporremo per i telespettatori più affezionati e non solo, con la Marcord di Capodanno. Fra le notizie che hanno segnato il 2018 spicca il viaggio di Onda Tg da Campo di Giove a Chieti riguardo la chiusura del punto rascita di Sulmona, chiesta dal comitato tecnico del Ministero. Nel giorno delle dimissioni del sindaco Anna Maria Casini, il 10 agosto scorso, il nostro sito internet è stato visitato da 17.000 lettori unici. Fra i 18 servizi più seguiti c'è la consegna delle chiavi per il nuovo ospedale, l'elezione a senato di Gabriella Di Girolamo come unica parlamentare del territorio, il bentornato al Denino Morandi, l'Abruzzo che piange la morte di Sergio Marchionne, Gabriele Gravina, eletto presidente FIGC, il richiedente asilo ferito dopo il blitz all'ex centro di accoglienza, il blitz sotto i viadotti di Bugnare e Cocullo e il via alle verifiche espettive, l'incendio al deposito Pastorina del Coggesa, l'alto piano delle 5 miglia senza il viale alberato, il profilo dell'usura che cambia con l'arresto dell'ex dirigente scolastica e dell'agente assicurativo e la nuova stazione innovativa e senza barriere architettoniche. Ma nell'elenco c'è anche la massiccia protesta dei 230 commercianti che hanno marciato da Piazza Tresca a Palazzo San Francesco e il caso Conti che continua a tenere banco con la famiglia che si è apposta alla richiesta di archiviazione. Come pure la morte del giudice onorario Filomena Ciotti e del titolare della storica ottica di Sulmona, Paola Ammazzalorso, per arrivare alla notizia che ha messo tutti in ginocchio qualche giorno fa l'addio al giovane Simone Lotito. Un anno di grandi servizi, ma anche di grandi numeri. La media di letture uniche sul nostro sito internet è di 13-15 mila lettori per un totale di oltre 300 mila lettori unici al mese. I 18 servizi televisivi più seguiti saranno raccolti in un DVD che si potrà prenotare e ritirare gratuitamente dal prossimo 2 gennaio. Un segno che l'emittente televisiva vuole lasciare oltre a quelli che ha già seminati perché Onda TV, il 18, le dirette da studio e sul campo non sono passate inosservate. Buon anno nuovo 2019! Anche se, visto che nella vita gli anni si possono solo aggiungere, non togliere, per noi sarà un 2018 più uno. Ci piace pensare che il lavoro svolto non andrà perduto e con esso i fatti raccontati, le persone intervistate, gli obiettivi centrati. Aguri! E adesso per lo sport ci occupiamo di rugby. Continua il matrimonio tra il Sulmona e la Tessa Rugby. L'obiettivo è quello di far crescere il vivaio. L'unione fa la forza. Ne sono convinti il Sulmona e la Tessa Rugby che hanno deciso di mettersi insieme dal 2015, inizialmente per un progetto riguardante la prima squadra che è stato poi esteso al settore giovanile. Dopo la cena di Natale svoltasi lo scorso 21 dicembre a Sulmona, la presenza dei rappresentanti di Atessa è stata ora ricambiata la visita. Mauro Ranalli, Emanuele Dielzi e Giuliano Bianchimani sono stati ospiti della conviviale organizzata dalla Società della Tessa Rugby 2007 alla presenza dei ragazzi e dei loro genitori. Ad accogliere la delegazione sulmonese è stato il presidente Mirko Cinagli. La collaborazione con Sulmona ha contribuito fortemente a far crescere i nostri ragazzi. Oggi abbiamo qui tutti i nostri draghetti che militano nelle file del Sulmona ma che comunque fanno parte della nostra squadra di Atessa Ragazzi under 10 e 14 della Tessa stanno vivendo con il Sulmona Rugby un'esperienza fondamentale che aiuta sicuramente a crescere a contatto con un'altra realtà. Che si fa al rugby? La prima cosa fondamentale? La prima regola? Fare meta. Fare meta. Quante meta hai fatto fino adesso? Con il Sulmona una sola. E vabbò quando giochiamo tra di noi abbastanza. Per adesso è un grosso momento loro hanno ricominciato quest'anno con i bambini, con il mini rugby hanno buoni ragazzi della 14, della 10, 12 non hanno un numero grandissimo però hanno molto entusiasmo i ragazzi che tra parentesi giocano adesso insieme a noi sono veramente bravi anche educati e hanno un grosso entusiasmo. Nel corso della conviviale il presidente Cinagli ha portato i saluti di tutto lo staff della Tessa Rugby che si avvale dei tecnici Fernando Lusi e Giglio Lallo Nicolora Mondelli e Umberto Betti. Per il futuro si punta alla crescita coinvolgendo maggiormente le scuole. Stiamo anche portando avanti il progetto con la scuola di Montemarconi di Atessa a gennaio inizieremo anche con la scuola media quindi stiamo crescendo io penso che sono fiducioso che il numero appunto la cosa fondamentale crescerà e saremo sempre di più assolutamente. L'obiettivo nella Tessa Rugby è quello di valorizzare negli anni il vivaio sempre con il contributo di Sulmona. Stiamo lavorando per portare anche nel 2019 un torneo di mini rugby anche qui ad Atessa sicuramente ci riusciremo a marzo e speriamo che quello sia la base di partenza per un futuro radioso. L'incontro si è concluso con lo scambio di auguri e con un saluto affettuoso della Tessa Rugby agli amici di Sulmona. È sempre un piacere per noi ricevere i ragazzi di Sulmona qui Mauro Emanuele Giuliano che oramai da qui ve l'abbiamo mandato lì a Sulmona è bello è bello perché fraternizzare con altra realtà. Adesso arriva un aggiornamento sulla protesta dei sindaci di questa mattina per i pedaggi autostradali gli aumenti dei pedaggi saranno un colpo mortale per i nostri territori non ci fermeremo a questo presidio la lotta andrà avanti da domani mattina primo dell'anno sit-in di una cinquantina di amministratori di Lazio Abruzzo tra cui molti sindaci al casello l'Aquila Ovest dell'A24 per protesta contro gli aumenti circa il 19% dei pedaggi sull'autostrade a 24 e a 25 i manifestanti hanno bloccato per alcuni minuti il casello non ci fermeremo hanno detto a questo presidio la lotta andrà avanti a partire da domani ha urlato al megafono il sindaco di Carsoli Velia Nazaro una dei promotori della mobilitazione scattata ad inizio anno dopo l'aumento di circa il 13% quella di oggi è l'ennesima azione di protesta che in extremis mira ad evitare l'aumento da domani del 18,4% su A24 e A25 gestite da Strada dei Parchi S.P.A. e lasciamo dunque la protesta dei sindaci con quest'ulteriore aggiornamento che è arrivato in redazione non ci sono altri aggiornamenti possiamo così concludere qui questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie della cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata e buon anno a tutti voi sulla nostra regione condizioni di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili annuvolamenti specie sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico sul settore orientale e lungo la fascia costiera con possibilità di precipitazioni sparse dalla serata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni con un miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nel corso della notte temperature in ulteriore diminuzione specie nei valori minimi venti deboli o moderati dei quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera mare generalmente mosso o molto mosso di gioco di gioco e di gioco di gioco Grazie a tutti.